Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Non dico, i vostri ladies e va a fanculo a tua madre, va. Scusami figlia, non la fai rifare? Ah, io faccio... No, assolutamente non alla te, non si manca. No, no, non mi fai così. Io quando sbaglio mi incastro, mando a fanculo. Un giorno ho caricato tutte le clip degli errori e ne ho migliaia, ne ho. Ah, questa rimane. Perché sono un coglione, dove vai a dire cosa, figa? Un momento. Ah, intanto mi stanno vedendo tutti i live. Ok. E poi, con la macchina da piacere, si cuoce proprio, si cuoce perché è l'ora del transa, nel senso. E lo so, magari. No, esatto, ragazzi, quindi questa è una cosa bellissima, la personalizzazione dei propri jeans levis, e l'andiamo a fare, l'andiamo a fare. Ciao, Sofia. Ciao. Il jeans era... Mi prego, non posso fogliarmi questi jeans, mi prego. Sei serio? A tua madre si piglia quattro cazzi in padella stasera o glieli infila direttamente quella merda di tuo padre che ti ha messa al mondo sta grande puttana di merda? Succhiacazzi e urinatrice di merda. Ma vai a fare in culo, infilati le mani nel culo. Fallito di merda che amace buttana. Fallito di merda che amace buttana. Ma che non sono mia moglie, coglione. Col cazzo che mi blocca a me, coglione, 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 fallito, 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 coglione, fatti una vita, fatti una vita, merda umana. Mangia merda, fatti una vita, mangia merda. Fatti una vita, mangia merda. La mia merda mi devi mangiare, coglione, fatti una vita, fallito, fatti una vita. Che tu possa avere il peggio dalla vita, merda, merda, manco la merda del mio cane, Vali. Coglione, coglione, fammi vedere come ti chiami, fammi vedere come ti chiami. Lui è meglio castare che uscire a mangiare, ma state scherzando, state scherzando, non rinuncerebbe a una live neanche se muore il papa, neanche se vado in ospedale, neanche se vado in ospedale grave le rinunce a la live. Lei è dal pronto soccorso. Ma no, ma proprio non rinuncia a questa casa, mi lascia là. No, non rinunce. Se scende la gente e metto la maschera. Ottene un secondo che la metto anch'io, per favore. Ah, aspetta. Aaaaaaah! Ciao! Easy. Eha, eha, in vino verità. Eha, eha! Vi prego, clipate in moderazione di calcarico subito. Ah! Il mio caro armato è qui sotto, marino. Ciao, Eisenberg, grazie dei 27! Perchè guarda sopra, raga? Allora, ragazzi, per favore, per favore. Vedono anche dei colpi sotto di AK. Rabid che snichi, snichi, cerca di capire qual è la posizione, la trovata di Jabco. Continua a pressurare con la mitraglia sopra, Kebab, che può tenere claimato appunto l'Aig. In questo momento gli vengono lanciati due scudini. Siamo ancora dentro in 97, ragazzi. Pazzesco. Rimane vivo solamente lui. Direi che in... Andiamo avanti. Abbiamo moderazione? Io ho bisogno di moderazione, signori. Se abbiamo moderazione, immediatamente timeoutare per 10 minuti, qualsiasi tentativo di spoiler. Vi prego, ditemi che siamo moderati. 96 dentro. Una duo, quella di Saevid. Ci ha già abbandonato, purtroppo. Forza che andiamo. Signor Kebab, inquadrato adesso. C'è Fury che si sta allontanando. No, siamo senza mod. Perfetto. Siamo alle grand final e non abbiamo moderazione. Avanti ancora. Bello questo 100, arrivato. Cattivissimo. Un doppio 20. Oh, ragazzi. Ma cosa cazzo devo? Porco Dio. Porco Diaz. Fare. Per favore, porco Diaz. Fare. È che ci avevo incastrato la O, nel senso. Vabbè, porco Diaz. Dai, 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 dai. Chiedo scusa, chiedo scusa. Non era un Dio. È che mi si è incastrata qua alla fine della voce. Porco Diaz. Fare. Non era cattiva questa. Non era cattiva e non era voluta. Dai. Mi si è bloccata la saliva qua. Si è chiuso i no invece che i no. Porco Diaz. Per favore, per favore. Dai, per favore. Diaz. Cosa porco Diaz devo fare? Andiamo. Porro Xyuder. Porro Xyuder. Figa la merda. Figa la troia merda. Io ho tre kill, tre win del cazzo da fare. Per tutto il giorno, per duemila patatine. E' da già pinter qui. In che modo chi? Porco Dizio. Ma porco Dizio, porco figa. Hai metto dentro due armi che non hanno un cazzo di senso. E facevano cagare nello scorso capitolo. E fanno cagare anche adesso. Perché porco Dizio. Sapun minga col cannone rotaia rompe il cuoio una a sé. Eh, non riesco io. Uno viro Xyuder. Non ne avevo più. Merda di Gesù, scolo. Non ne avevo più. Peccato. Chi cazzo ha vinto? Ma ha vinto la massa. No. Ho trovato tutta la community oggi di Fortnite. Nel senso, quindi... A me piacciono un sacco i tornei, Lubin. Ma le ho avuto un casino. Allora, io come sai non gioco i tornei online. Nel senso, io gioco i nilow. Quindi perché... Me l'avrei detto perché mi sono preso la concezione che non so sparare dopo 5 anni di Fortnite. Abbiamo trovato un modo di vincere in altri modi. Però, se veramente sviluppano adesso dopo giugno, con questo grande annuncio della storia e di tutto quanto, ma che coinvolgerà viene fatto competitive e torna un'edilità. Lo sa cazzo. L'ho preso io? No! Esca! No, no! No, ma già! Come? Ma è fesso... Ma è fesso... Ma è fesso ammazzagato il botto. Iggy. Applaudi! Non lo ha trovato una cazzo. Merda la corona. Ciao Vincenzo, grazie di cuoro! Iggy! Questo però è stato bello perché era un 50-50 a tutti gli effetti. Bravo! Si cilla, si si diverte, ci sta. Si presenta anche io il pass premium, quindi mettono il pass premium. 100 livelli di pass premium, assolutamente sì. Non lo faccio più. Intanto loro chiacchiano. Faccia i complimenti. No, però sai cos'è? Io gioco così. Ma sappiamo dove sia. Mi dicono, ho detto che c'è gratis. Sì. Ah, eh. Ci sta. Chi mi chiama? Io. Dichi. Amici per me, andiamo a fare le foto. Ok ragazzi, ci siamo. Ultima prova, ultimo allenamento. Probabilmente non... Fanculo, non lo fare, non lo fare, non lo fare. Fatti il follow sopra adesso. Quando è finito i medichet anche. Non hai fretta? Davide, sottolineatura, Rauci è dei nostri. Ciao Davide, benvenuto, ciao bello! Siamo messi molto bene, eh. Preseio. Let's go! Easy! E andiamo! E andiamo! Hashtag... No gli hashtag, brutto coglione di merda. Le menzioni. Menziona Levis. Ho gente da me. Sì, le menzioni. No, no, no! Dio caro, se muori ti scopo la madre, porco! Luca! 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 Mi devi succhiare il cazzo! Luca! 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 Luca 08! Luca 08! Luca 08! Questa è quella puttana di tua madre che mi succhia il cazzo! Luca mi devi succhiare il cazzo, Luca di merda! Luca di merda, succhiami questo grande cazzo, peloso, bastardo! E infila quella puttana di tua madre le palle in gola, merda! i risoni che qua si vanno in pastina che non li mangerà mai, beh, cosa ci abbiamo qua? Spaghetti! Spaghetti che la Pami dovrà mangiarli per forza! Che follia! Io, difisati, comprami un altro! bello raga! Bello! Io me l'immaginavo proprio così! Non la sposti la segna! Sì! Scigliati là ragazzi! Altri ragazzi mi hanno regalato un nuovo Funko Pop! Io vorrei abbracciarli ma per l'enorme non possiamo farlo, conosciamo le fortissime grazie ragazzi! Guardate, io lo metto vicino agli altri, alcuni mi hanno, ad Arese, altri ragazzi, il gruppo mi ha regalato un altro Funko Pop, quello del Master Ship, di Fortnite, e tanti anni fa un ragazzo mi regalò un altro, una vittoria, e me ne ho tre, e io li vedo ogni volta che entro in line, perché li guardo e li metto sotto la mia saletta. Grazie davvero, grazie davvero, io... Grazie!